E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono sempre io, Samuel Robani, in questo video pazzesco sulla compravendita di FIFA e vi invito subito a lasciare il like, iscrivetevi al canale e soprattutto ragazzi andate a vedere i due link primi in bio il primo è il mio gruppo di compravendita consigli giornalieri guide su FIFA 23 e il secondo link è un'applicazione sul chiaccio numero 10 se volete scaricarla, molto molto figa, dateci un'occhiata, non ve ne pentirete allora, oggi nuovo video su compravendita, vi ripeto, se volete entrare nel mio gruppo ci sono ancora pochi post rimasti in offerta speciale quindi se volete entrare dateci un'occhiata, primo link allora, siamo rimasti con l'ultimo video di compravendita stasera, cercherò di far uscire il video stasera, cioè prima di stasera stasera uscirà la promo, che non mi ricordo il nome, non questa pagina World Cup Stories, sarà molto simile alla promo questa qua che è uscita la volta scorsa una promo non, devo dire, poco bella non niente di che, però speriamo che stasera esca qualche carta un po' più interessante soprattutto per quanto riguarda il mid, il mid meta alcune carte sono crollate, causa appunto l'uscita della Germania e del Belgio Lukaku è crollato, Carrasco è crollato, Gnabry è crollato Goretzka ha perso praticamente mezzo milione anche perché, sì, rimane una bella carta, però insomma, un milione per Goretzka mi sembrava già tanto comunque, vabbè, ci sono delle carte che stasera secondo me crolleranno, come sempre io darei un'occhiata al mid, al meta totale potrebbe esserci un crollo pesante, come è successo poi la settimana scorsa come potete vedere è arrivato a una media di quasi 40k e ora sta a 10k in più io potrei darvi un consiglio, nel senso potrei dire compratevi almeno una copia di ogni carta meta quindi vi faccio un esempio, Van Dijk un altro, andiamo a vedere il suo grafico dovrebbe essere molto simile a quello di Vinicius è infatti similissimo ha preso quasi 20k, Van Dijk è ancora di più Walker dovrebbe essere uguale queste carte, insomma, oro, meta sono ancora in qualche modo utilizzabili per la compra vendita Ronnie, lo stesso Ronnie, forse il Sium anche il Sium ha fatto, sì, anche il Sium ha fatto un piccolo aumento anzi, quasi è ritornato a 100k stasera sicuramente un po' crolleranno queste carte, causa spacchettamenti e crolleranno anche sabato e domenica a causa premi IWL poi dovrebbero avere un piccolo rialzo secondo me, anche per questa promo qua che uscirà, sì, ho visto già dei leak ha delle buone, delle buone carte vi faccio vedere andiamo a vedere su Futsheriff vi consiglio sempre Futsheriff per su su Twitter Futsheriff su tweet che ci regala sempre dei dei delle buoni leak quasi sempre giusti dei leak sulle carte che usciranno quindi ve lo consiglio assolutamente guardate, ve le faccio vedere ok siamo sulla pagina principale due busciri di Charlison questo secondo me potrebbe essere una carta interessante Davis è una carta interessante però sembra listato come Ala quindi boh, vediamo V.A. potrebbe essere interessante bisogna sempre vedere quante stelle skill più debole hanno ovviamente Asensio potrebbe essere una carta interessante bisogna vedere sempre le stelle skill la porta mi sembra un difensore da massimo 200k insomma mi sembra una promo simile a quella che è appena uscita ovvero niente di così eclatante carte alcune carte buone eccetera eccetera sulle carte aggiornabili queste qua rosse cosa fare sicuramente ci sono ancora delle questioni che possono fare i sali delle carte ovviamente quelle che sono uscite dal girone neanche le stiamo a guardare anche se nel mio gruppo ho consigliato ad esempio di prendere Lukaku 40k perché secondo me potrebbe avere un piccolo rialzo potrebbe è un rischio potrebbe è un mio pensiero così ma non è detto allora anche Schlottebel che si potrebbe prendere ha una cifra del genere ad esempio non è neanche così eclatante potrebbe avere anche magari in futuro un piccolo upgrade e aumentare la carta grazie magari all'uscita di ogni if che non lo sappiamo sono carte comunque da investimenti lungo termine cosa fare con le rosse sicuramente ci sono delle nazionali che sono sono passate tipo il Marocco con Bufalle Bufalle è della verità anche una bella carta Bufalle ha già avuto un bel aumento passato praticamente da prezzo quasi scarto al doppio a quasi 10k in più e niente io lo consiglierei sinceramente almeno una copia la potrei consigliare ma cercate di prendere sotto i 20k un'altra cosa che vi potrei consigliare beh Griezmann è troppo costoso anche troppo rischioso Zonkuku praticamente introvabile sul mercato costa 2 milioni quindi lasciamo stare Carvajal potrebbe essere anche un'altra carta interessante che è contro il Marocco quindi vi giocate sia Bufalle che Carvajal potrebbe essere interessante Bruno Gimerares è già troppo alto ad esempio io in questo momento non ve lo consiglierei Ito è passato al Giappone ma ha già un prezzo secondo me veramente enorme per la carta che è quindi lasciate stare altre carte che potrebbero essere interessanti Grealish è già aumentato molto qui per queste carte qua potete aspettare magari domenica potrebbe esserci un piccolo crollo dipende però già un po' queste carte rosse sono molto rischiose ad esempio stasera o comunque oggi pomeriggio non mi ricordo se stasera o oggi pomeriggio giocherà l'Uruguay deve vincere per forza quindi potrebbe essere un buon rischio a Rauco monitoratelo durante la partita magari monitoratelo non è detto che prenda l'upgrade anche perché l'Uruguay non ha giocato bene secondo me non ha fatto granché però con il Ghana deve vincere ecco deve vincere però anche il Ghana è una bella squadra altre carte che vi consiglio date sempre un'occhiata a carte meta che escono su questa pagina ragazzi tipo Simon ha avuto un aumento che causa change del 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 meta però come potete vedere ha dei piccoli rialzi e dei piccoli riabbassi alzi riabbassi alzi riabbassi potete vedere è arrivato anche lui a un 25k e ora è ritornato a 30 quasi 35 quindi è una carta che questa molto interessante tutte queste carte di questa pagina a maggior parte sono carte comunque meta carte che la gente ricerca carte che hanno un aumento e una diminuzione dei prezzi sempre poi ovviamente ragazzi capita prima o poi andando avanti del gioco non ritorneranno mai al prezzo al picco precedente vi faccio un esempio è molto difficile andando avanti nel gioco come potete vedere cioè Van Dijk non ritornerà mai questo picco quindi ovvio che se noi l'abbiamo preso il 28 ottobre o diciamo il dicembre non possiamo rispettare i caritori del 200 perché è una carta che esce tutto sempre però noi dobbiamo essere bravi a prendere la carta nel momento di picco come potete vedere nel momento di picco scusate dobbiamo vendere nel momento di picco e comprarla appunto nel momento migliore a ribasso ovviamente ragazzi consiglio generale cercate di prendere sempre queste carte il weekend quando ci sono i premi quando esce la promo generalmente quando c'è la WL quando finisce la WL un po' per tutti la gente vende perché ci sono i premi magari ho trovato delle carte buone vendere i giocatori è tutta una questione del genere e quindi io vi consiglio sempre alla domenica e al sabato mi raccomando dateci un'occhiata e se volete altri consigli giornalieri entrate nel mio gruppo compro e vendita primo link in bio mi raccomando